Matteo, l'alice è scappata Oggi prendiamo tre bustine che mi ha portato l'alice e siamo al mare l'alice e matteo questo credo che sia il caramare che cazzo però non si sa Cominciamo da questa Sta lì, sta lì, sta lì che ti fai Sta lì Ma come fai sapere che è il caramaro? Dalla forma? Sì Vediamo Vediamo se ha ragione Vuoi le forbici? Vuoi le forbici? Vivo No, no No, ci riesce Oh no, la murella Bella Cos'è? Hai indovinato? L'aurea Ah, vedi? Vediamo se si illumina il busto Il busto Si illumina il buio? Credo No Uno speciale quello lì Apri gli altri intanto Scegli, scegli No, no, è normale, è normale Non si illumina Apri gli altri Guardate la foto Ma ha qualcosa di speciale questo? No Che bella Questo lo mettiamo qua E questo lo mettiamo qua E questo lo mettiamo qua E uno E uno Prossimo Mamma mia Bellissimo Che colore Un giallo quasi florescente Un giallo quasi florescente Passiamo per un secondo È tutto quello Ogni tanto si è più Ogni tanto si Però E' una maledita E' una tartaruga E' una maledita E' una maledita E' una tartaruga E' una tartaruga marina Questa che tartaruga è Quindi finora? Tutti nuovi? E Lorenzo? Sì. Tutti nuovi? Dammi qua che te lo dico. Aspetta qua. Come si chiama? Bello! Guarda che tarta urali! Quella ce l'aveva? Come si chiama? Liopleurodon. No? Scusa. Fammi vedere. Eh, se mi dai qua. Si chiama Arkelon. Arkelon si chiama. Guardate, Arkelon. Bellissima. Veramente bella. Poi passiamo alle creature nate. Domani la portiamo a Numana e la liberiamo. Eh Lorenzo? Ma qual'è il volatile questo qua? Cos'è amore? Spettacolo. Il pelicano. Bello. È bellissimo. Bello. Il pelicano. Guarda questo. Il pelicano volare. Tutti nuovi eh? Tutti nuovi. Saluti i tuoi amici dai. Ciao. Aspetta, vi faccio vedere prima il gabbiano. Ecco, racconta, va. Racconta il gabbiano. Ma è un gabbiano? Sì. Fai vedere? No, è un pellicano. Pellicano. Hai detto bene all'inizio. Pellicano. Lorenzo. Saluti. No, devi leggere il pelicano qua. Dai. Allora, leggiamo il pellicano. Sì. Allora. La caratteristica di questo uccello acquatico è il profondo sacco volare posto sotto il becco. ha uno spirito gregario, è un grande volatore e si alimenta principalmente di pesce. Dai, salutiamo i nostri amici. Su. Ciao. E poi non devi dire niente. Sì. Iscriviti al canale. Iscriviti al canale. Arrivata la campanella. Lascia un bel like a questo video. Ciao. Dai, ti salutiamo. Ciao.